Ciao e benvenuti in uno spazio Mio Podcasting Questa è la stagione 2 In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contact Mio Podcasting, un contenuto audios a cadenza mensile Ciao e benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting Questo è l'episodio numero 14 della stagione 2 In questa puntata vi sintetizzerò rapidamente la bloggata intitolata Convegno Airpower e Hybrid Cyber Warfare Il link della bloggata lo trovate come sempre in descrizione a questo video C'è una serie di varie e a mio avviso molto interessanti conferenze sul potere aereo Che sono facilmente rintracciabili in internet Io ne ho istratto i contributi multimediali a mio avviso più interessanti nella mia bloggata Levatevi dal cervello che io vi stia a sintetizzare le varie conversazioni e conferenze Se siete interessati a questi temi andate sulla bloggata Vi fruite le varie conferenze che sono interessanti e le apprezzerete Sono vari interventi tecnici molto belli, molto interessanti sul potere aereo moderno e varie altre cosette Quello che vi starò a dire in questa breve e sintetica puntata numero 14 È una serie di considerazioni Allora, nell'analisi della World War 3 a prima restrizione È inferibile che la sindrome di Kessler disabiliterà l'uso dei droni a pilotaggio remoto Le telecomunicazioni a lunga distanza È buona parte della dottrina netcentrica del Pentagono Incluso in tutto o in larga parte anche servizi GPS, GLONASS e Galileo Sicuramente per quanto riguarda la copertura di tali servizi in Siberia I droni a controllo remoto in Siberia nella terza guerra mondiale a prima restrizione In teoria li potranno dispiegare in media ed alta quota solo gli aggressor Se e soltanto se 1. Avranno un potere aereo adeguato 2. Se saranno stati razionali costruendo una rete satellitare Kessler Safe I droni tattici impiegati dai Defenders nella terza guerra mondiale a prima restrizione Se mai ci saranno Potranno essere dispiegati nella bassissima e bassa quota Se i Defenders ne costruiranno con sistemi di intelligenza artificiale equipaggiati con sistemi di guida inerziale Supporto per wifi, multifrequenze accriptate e o con capacità di semicontrollo remoto Ossia droni con IA programmabili per pinpoint zone Sia da mezzi aerei quanto da operatori a terra o mezzi a terra Per utilizzarli in ricognizione, targeting, jamming e eventuali anelli di ponti radio Questo per cercare di lenire l'assenza di servizi satellitari Che saranno stati disabilitati dalla sindrome di Kessler I droni tattici in mano agli aggressori in Siberia E' atteso che li useranno per la riconnezione tattica, jamming Mentre quelli per la media alta quota Saranno usati soprattutto per le operazioni di suppression enemy air defense Anche con meccanismi identici ai missili antiradar Per ingaggiare e distruggere l'alto numero di radar Che pilotano le batterie di missili terra-area SAM Che i russi probabilmente continueranno a disporre anche in futuro Nell'analisi delle guerre puniche 2 per diversione strategica Invece è atteso che la sindrome di Kessler disabiliterà tutti i droni a controllo remoto Quindi per il CAS e il COIN E tutta la guerra net-centrica del Pentagono verrà meno Incluso una parte dei servizi GPS, GLONASS, Galileo Ed ovviamente le reti di telecomunicazioni a lungo raggio L'alta quota e la media quota nel Mediterraneo Saranno tuttavia libere da minacce cartaginesi Il grosso dei problemi saranno nella bassa quota e bassissima quota Dove non è impossibile che i cartaginesi Possano disporre di meno i droni Con wifi, multifrequenza, criptate Sia per la ricognizione quanto per il jamming E dello sporadico CAS E soprattutto un cospicuo numero di Manpad Oppure utilizzare i droni in sostituzione della carenza di Manpad E' atteso infatti che il potere aereo cartaginese sia modesto Anche perché logorato durante la fase di assorbimento del nord-est Africa Ora, in un pianeta sovrappopolato Con un'accelerazione dei danni da cambiamenti climatici E' utile segmentare gli attori mondiali in varie categorie di players Primo mondo Nazioni con mercati saturi Alto debito pubblico Crescita a quasi zero del PIL E costanza del reddito pro capite Basso livello dei tassi di interesse Bassa crescita della popolazione Forte potere militare Secondo mondo Nazioni con mercato non saturo Medio livello di debito pubblico Medio livello di crescita reale Un medio livello dei tassi di interessi Con una crescita moderata della popolazione Cina, India, Pakistan, Sud America Rapido aumento della potenza militare Cina, India, Pakistan, Iran, Nord Corea Terzo mondo Quasi nazioni Con gravi problemi istituzionali Ed un mercato non saturo Con enormi bisogni essenziali insoddisfatti E con una crescita economica potenziale elevata Ed un massiccio incremento della popolazione Vedi, bomba demografica africana Però con modesto hard power militare Nessuno di questi tre mondi vive nell'iperuranio Tutte le nazioni del mondo subiranno i crescenti danni causati dai cambiamenti climatici Continente messo peggio è sicuramente l'Africa perché sovrappopolato E senza possibilità di ripartire le sue risorse in altro modo Deserti si allargeranno La mancanza di acqua dolce causerà shock idrici per le persone ed agricoltura Contestualmente ci sarà un pesante ridimensionamento della foresta equatoriale Poi tifoni e uragani flagelleranno la costa dell'Africa occidentale E dell'Oceano Atlantico E quella del Sud-Est Africa dell'Oceano Indiano Logico ritenere che nei prossimi decenni Si sviluppino quattro tipi di confronti competitivi Primo tipo di guerre Il terzo mondo contro tutti Il terzo mondo sotto la spinza della sovrappopolazione E danni da cambiamento climatico Con enormi bisogni insoddisfatti in Africa Popoli del terzo mondo proveranno a confiscare fonti di energie e materie prime Per lenire i propri bisogni essenziali Tra il morire di media per fame e sete E morire in guerra con la speranza di un cambiamento Tutti sceglieranno la seconda opzione Gravi impatti si attendono nel Mediterraneo Nel Nord-Est Africa E nelle Yellow Buffer Zone Questo tipo di guerre Detonate per cause endemiche Significherà la lotta militare Tra terzo mondo contro primo mondo E terzo mondo contro secondo mondo Questo tipo di flashpoint Saranno guerre asimmetriche regionali Con pulizie etniche da parte degli aggressor Secondo tipo di guerre Primo mondo contro secondo mondo Il primo mondo competerà con il secondo mondo Per l'accesso alle risorse E per le valute di conto Inizialmente guerre finanziarie e valutarie Il secondo mondo cercherà soluzioni In favore della propria valuta nazionale A discapito delle consuetudine D'usare il dollaro come moneta di conto internazionale Guerre finanziarie porteranno di sicura Guerre nel dominio cyber Le quali a seconda dell'intensità Dei danni prodotti Potrebbero attivare un'escalation Dello scontro Tra primo mondo contro secondo mondo Conducendo ad uno scontro militare Diretto In un tipo di terza guerra mondiale Questo inviluppo è una possibilità concreta Tuttavia osservando la storia È anche possibile che il primo mondo E il secondo mondo decidano In una prima fase Di evitare un confronto diretto Focalizzandosi su guerre regionali Per proxies Esempio lotta tra alcune nazioni Del terzo mondo Tuttavia È anche logico supporre Che la soddisfazione dei bisogni primari Di questioni di scarsità I danni da cambiamento climatico Provocano una degenerazione Di guerre regionali dei proxies Con un'escalation Dentro un confronto diretto Tra la coalizione del primo mondo Contro la coalizione del secondo mondo L'uso di testate atomiche tattiche Non comporterebbe un olocausto nucleare Come nella guerra fredda E questo è il caso Della terza guerra mondiale A prima o seconda restrizione O a terza restrizione E delle guerre puniche due Per la diversione strategica Abbiamo un terzo tipo di guerre Nazioni del secondo mondo Contro nazioni del secondo mondo In un contesto di elevati bisogni primari Insoddisfatti Con gravi questioni di scarsità di risorse Petrolio, gas, energia, acqua dolce Cive, pesce, terre fertile e quant'altro Danni da cambiamento climatico dilaganti È plausibile immaginare una lotta Per la sopravvivenza Tra grandi players in Asia Dentro ad una logica di gioco a somma zero Non è da escludere la terza guerra mondiale Definibile come Cina contro India Ossia il caso della terza guerra mondiale A prima restrizione Con numero dei contendenti minimo Per ultimo Ma non meno importante In un mondo competitivo In cui tutte le nazioni giocheranno Un gioco a somma zero Dove la morte di una nazione Significherà la sopravvivenza di un'altra Quarto tipo di guerre Coalizioni ibride del primo mondo Contro coalizioni ibride del secondo mondo È logico attendersi Che il primo mondo Costruisca una coalizione Con tutti i paesi del primo mondo Che non saranno stati canaglia Rinforzata la coalizione Dei paesi del primo mondo Anche da qualche nazione Del secondo mondo È altresì logico Attendersi Che esista una coalizione Di vari paesi del secondo mondo Che si siano alleati Con alcune quasi nazioni Del terzo mondo Considerazioni che spingerebbero Il confronto Competitivo Più sulla terza guerra Terza restrizione Con una terza guerra mondiale Ad un alto numero di contendenti Tuttavia Non è logico anche immaginare L'esistenza in un futuro Di una terza coalizione Meno potente militarmente Composta solo da nazioni O quasi nazioni Del terzo mondo Ad esempio Cartago Nascita con aggregazione Un saluto Ciao Alla prossima